Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbi, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose, non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato. Ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, ed in nascosto le disse, il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò, dove lo avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva fare sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essere apposta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto. Signore, manda già cattivo odore, è lì da quattro giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Domenica 26 marzo, quinta domenica di Quaresima, Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1 a 45. Ecco l'ultima tappa, prima di entrare nella grande settimana finale, è questo racconto meraviglioso della risuscitazione, forse è meglio dire così, di Lazzaro, perché è diversa dalla risurrezione di Gesù. Gesù entra nella vita piena, eterna, Lazzaro torna alla vita fisica, ma è il grande segno, il grande segno che Gesù dona poco prima della sua Pasqua, proprio come per squarciare il velo tremendo, il velo nero che avvolge l'esistenza umana, il velo della morte. La morte che non guarda in faccia a nessuno, la morte che prende anche le persone amate. Il Vangelo sottolinea molto che Gesù amava, Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro e anche le sorelle mandano a dire, Signore colui che tu ami è malato, è l'amico di Gesù, l'amico per eccellenza, come ognuno di noi. E davanti a questo amico che muore, che viene rapito dalla morte, Gesù piange, è il momento forse più drammatico, ma anche più umano, più bello, lo sentiamo vicino. Gesù che piange davanti alla morte dell'amico, anche il suo cuore è ferito da questa realtà terribile che è la morte. Eppure Gesù lo sa e lo dice a Marta, lo sa, che lui è la resurrezione e la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà e chi vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Ancora una domanda, come quella al cieco, come quelle del battesimo. Tu credi perché è sempre la fede che ci apre a uno sguardo diverso, anche sulla morte. Marta risponde, sì o Signore io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo, il veniente nel mondo, letteralmente. Ecco, viene nel mondo perché ci vuole aprire la strada verso Dio, verso la vita piena ed eterna. E allora questo grande segno di Lazzaro a cui Gesù grida, Lazzaro esci fuori, è un po' un grido rivolto anche a noi. Esci fuori dalla tua tristezza, dalla tua disperazione, dalle tue angosce. Esci perché? Perché ti è donato una speranza, perché dal giorno del battesimo questo germe della vita eterna è anche nel tuo cuore. Nelle tue vene non scorre solo il sangue, la vita biologica, scorre la vita di Dio, la vita di Cristo, che è la ressurrezione e la vita piena. Allora anche come fanno con Lazzaro, anche per noi è vero quell'ultimo comando di Gesù, liberatelo perché era avvolto, legato dentro le bende, dentro come era uso seppellire, dentro l'enzuolo tutto legato come una mummia diremo noi, liberato e rilasciatelo andare. Anche noi abbiamo bisogno di essere liberati da tanti impedimenti, da tante lentezze, pigrizie, fatiche, dubbi. Il Signore ci liberi e ci lascia andare a correre sulla via della fede, a correre verso di Lui, perché Lui è venuto verso di noi, è venuto per darci la vita e condurci al Padre. Grazie a tutti.